Allora, che volevo dire, volevo confermare, il maritaino è a casa? Che vuol dire a casa? Sì, niente, che non ha pagato, per cui la Covid-19 è esclusa, appunto, è esclusa definitivamente. Ma non c'hanno tre giorni per depositare quello che gli hanno chiesto? No, perché anche se ce l'avessero tre giorni per pagare, comunque dovrebbero portare una liberatoria scatata entro il 15, quindi a meno che ci manchino, non è un pazzo, gli fanno una liberatoria entro il 15, è impossibile, insomma. Ma questo te l'hanno conformiato però all'interno della Covid-19? Certo. Oh, sei l'unico che lo sa, non lo sa nessuno, perché non me vale a far girare voi? No, 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 tranquillo. Io devo ricambiare in quel modo, poi fai l'estate e poi ti faccio quel regalo. Comunque non mi posso, posso ricambiare in quel modo, è carina, carina, quando la vedi poi mi dirai se è carina, ma poi è una donna pure intelligente, dai, così a meno che ti passi qualche weekend sereno pure da queste parti. Va bene, comunque insomma, la possibilità è zero ormai, quindi se vi propone una sorta a quello che gli pare, è zero. Va bene. Anche perché ti hai detto tra noi, hanno escluso pure Alazio. Ah sì? Eh sì, perché non ha presentato la fede di uscione in tempo. Dai, che scolioni. E quindi entra il Genova. Entra il Genova e l'altra è la Niene. La Niene, sì. Vabbè, però a questo punto bisogna cominciare a essere ferri con le regole, perché altrimenti... Ma sì, sì, ma non so se passare il messaggio, un tipo da una pomagaccio ci pareva, pagavamo fino a dicembre e poi tanto... Cioè... Va bene. Andrei, buona serata, grazie. Grazie. Semmai ci siamo domani, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.